Il dipanarsi di un fronte in cui il caos greco si mesce con la sua diretta rappresentazione fisica, ovvero scientifica, delle dinamiche non lineari, per affrontare l'insussistente questione della teleologia, la quale detronizza se stessa all'apparire di un breaking point impostato alle vite d'ognuno e dal continuum esperenziale comune, è detto come assenza di senso indipendentemente dall'entropia, dalla complessità, delle vite del pensar d'ognuno. Selezione naturale a livello microcosmico e macrocosmico si nutre dalle medesime stazioni mutuanti ed onisticamente e sopravvivenzialmente comportamenti ripenuti vantaggiosi, indipendentemente da bene e male, ragione o torto, per la conservazione di ciò che ogni entità ritiene amor proprio o status quo. Ammettendo ex absurdo la concretizzazione di un punctum di realizzazione univeggente, pantocrate nell'ere, significativa in tal senso, rimarrebbe comunque da domandarsi che vi sia di riflesso rimasto da compiere allora, una volta escusso il tutto.